24 metri di larghezza, 86 metri di lunghezza, 4 corsie, 2 per senso di marcia per una spesa complessiva che supera i 13 milioni di euro. Con la posa della prima pietra questa mattina lungo la sponda nord del fiume Pescara hanno preso il via ufficialmente i lavori per la costruzione del ponte nuovo. Un'opera infrastrutturale fondamentale per la viabilità in città, soprattutto a servizio delle aree di risulta. Come ha ricordato il padre putativo del ponte, il presidente della regione Luciano D'Alfonso che avviò l'iter per la realizzazione sotto la sua amministrazione, proseguito poi dalla gestione al Boremascia e da quella alessandrini. Una grande infrastruttura che arriva all'avvio effettivo dei lavori dopo sette anni. Nel 2008 fu approvato il primo progetto preliminare, una serie di vicissitudini particolari hanno comportato questo ritardo, ma oggi ci siamo. Parte questa grande opera infrastrutturale, parte una ripresa anche economica se vogliamo, perché insomma 13 milioni e 100 mila euro sono una cifra importante anche per il rilancio economico di una parte dell'economia cittadina. Chi finanzierà quest'opera? Di questo dobbiamo ringraziare innanzitutto l'ANAS che ha impegnato già nel 2008 5 milioni di euro, poi ci sono altri 4 milioni di fondi, o meglio 5 milioni e 6 di fondi FAS regionale e poi c'è Comune e Terna, una diciamo con partecipazione corale rispetto a un'opera infrastrutturale di cui Pescara ne ha un gran bisogno.